Sette progetti per sette comuni della Toscana a rigenerare il tessuto urbano andando a contrastare il degrado e limitare il consumo di suolo attraverso la trasformazione del patrimonio edilizio già esistente. Con questi obiettivi, in linea con quanto previsto dalla legge regionale numero 65 del 2014 sul governo del territorio, la Regione ha firmato con sette amministrazioni gli accordi per cofinanziare con 3 milioni e 400 mila euro gli interventi di rigenerazione e miglioramento del tessuto urbano. Con questo protocollo e con queste risorse cerchiamo di aiutare i comuni a investire nella rigenerazione urbana e quindi nel contrasto di nuovo consumo di suolo. I progetti finanziati sono quelli dei comuni di Arezzo, Calenzano, Chianciano, Terme, Colle Valdelsa, Petrasanta, Prato e Scarperia, San Piero che fanno da apripista per l'attuazione della legge. Per Arezzo la parte che sarà riqualificata è l'ultimo tratto degli assi ottocenteschi, via Petrarca, con una nuova pavimentazione in pietra e anche una nuova illuminazione. Sarà l'asse principale di accesso turistico perché con il nuovo piano della mobilità che ci apprestiamo a varare, la zona di via Petrarca sarà la zona principale insieme a via Guido Monaco, quindi la zona che proviene dalla stazione, il principale accesso alla città per i turisti. Per quanto riguarda Prato l'area che verrà riqualificata è quella che si trova a nord del centro storico e che ospita il mercato settimanale. Con il finanziamento regionale si va a completare di fatto l'assetto urbano di quest'area molto importante che funziona durante il giorno settimanale per il mercato, appunto come area di mercato settimanale cittadino e poi dopo come grande area di parcheggio a nord della città. Il valore complessivo degli interventi che saranno realizzati ammonta quasi 9 milioni di euro. Gli interventi saranno cofinanziati da regione e enti locali.